per Rome, rinunziare i tautatie. 11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI annuncia il latino davanti ai cardinali riuniti a Roma per il concistoro che dal 28 febbraio successivo rinuncerà al papato. Dopo quasi otto anni sul soglio pontificio, Papa Ratzinger, a causa dell'età avanzata e delle sue condizioni fisiche, non si ritiene in grado di proseguire. La notizia viene lanciata dalla corrispondente dell'ANSA e fa il giro del mondo. A succedergli sarà il cardinal Bergoglio, Papa Francesco.